Delle circa 150 chiese in provincia di Terramorese inagibili dai vari terremoti, 19 sono già state riaperte. Sì, è un traguardo che francamente non mi aspettavo che potessimo raggiungere. Domenica prossima, 1 settembre, aprirò una nuova chiesa. Naturalmente parliamo di chiese messe in sicurezza. Dunque riguardo poi il progetto della vecchia normativa che rendeva possibile, almeno la possibilità di mettere in sicurezza le chiese. Le chiese sono messe in sicurezza ma non aperte perché poi bisogna fare tutto il lavoro di restauro. E speriamo che questo percorso possa proseguire anche con le nuove prospettive che aspettiamo nella conferenza episcopare italiana. Ma i fondi ci sono? E credo che ci sono dei contatti tra la conferenza episcopare italiana e il governo, dunque non soltanto per la nostra provincia, per le nostre diocesi, ma soprattutto per altre diocesi dove la situazione è ancora più compressa perché ci sono diocesi dove di fatto la maggioranza delle chiese sono chiuse. Noi, grazie a Dio, abbiamo tante chiese di cui davvero la diocesi non sente la mancanza in maniera drammatica delle possibilità delle celebrazioni. E dunque è un momento importante ma ciò che vorrei sottolineare è che questi eventi che ho vissuto, che la provvedenza mi ha fatto vivere, sono stati segni di come la comunità ha bisogno del luogo di culto. Cioè la chiesa, la parrocchia, la chiesa parrocchiale ma anche la chiesa del luogo rappresenta davvero un momento importante per ripartire, per ricostruire la comunità. Si è creato anche parallelamente movimenti di impegno, di valorizzazione del territorio. Ho visto, penso, appoggio un bricchio, ma anche la stessa Crognareto con la dedicazione al santuario della chiesa della Madonna della Tibia. Ecco, piccoli segni che rivelano come la gente vorrebbe ripartire. Ecco, la riapertura delle chiese è stato un piccolo segno ma molto, molto importante. Eccellenza, ci sono delle chiese che vanno ricostruite da capo e dove? No, io penso non ci sono queste situazioni, sono situazioni soltanto di ricostruire, ma nel senso di ridare, riportare e superare quelle lezioni, possiamo dire così, lezioni, le tetti, le opere d'arte, ma non ci sono chiese da ricostruire, a meno che mi risulta, non ci sono chiese da ricostruire ex nuovo e dunque c'è però un investimento importante perché ci sono molte chiese che hanno anche strutture artistiche e culturali molto significative per le quali credo che occorrerà un intervento anche molto specialistico per la rimessa in vecchia realtà o nel loro splendore.